musica Ciao ragazzi, benvenuti da Musicalte, sono Andy oggi vi faremo ascoltare questa Shecter Sultan, una chitarra custom shop, completamente made in USA ovviamente dal nome avete già capito di che prodotto si tratta è la fedele replica della chitarra utilizzata da Mark Knopfler dei Daya Straits una chitarra di alta liuteria, body lontano, manico in acero, occhiolinato, 21 tasti a differenza delle classiche Stratocaster con il selettore a 5V questa monta dei mini switch dove potete utilizzare i pick up in svariate combinazioni la scheda tecnica ovviamente la trovate nel nostro sito www.musicaltestore.com e adesso la do nelle mani del nostro amico Boris che ve la farà sentire Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.